adesso siamo rimasti in pochi se potete e poi vinci a tutte le elezioni poi vinci a tutti i referendum poi vinci a 850 di sabbia 360 dei magistri ma qua non è che cambia tanto qua se non ricomincia quell'autunno che sta per arrivare a Canaccio insomma quello della morte, quello delle lotte se non ci pensiamo noi da qua sto casino non ci dirà bravo anzi ma poi tanto siamo amici se potete non vi offendete ormai qua abbiamo capito stiamo attorno al fuoco se potete fare le confidenze e poi dite voi quello che vi pare domani però perlusconi chi te lo fa qua tutti sti sordi che c'hai come si dice anche tra di noi che cazzo ti fai ma perché tutti sti sordi ce ne hai combattato con gli avvocati, con i giudici te chiamano da qua devi scappare qui a Bruxelles ma ma vendete tutto vendete tutto, comprate su un bastimento, non la vacca non passi perché qui ci fa invita pure a D'Alema che lui con la varchetta sua lì dove va e allora qui e poi perlusconi faccia sto favore una volta per tutte togliete dai coglioni la corte dei pirati grazie a tutti